Come perpetuare il ciclo del carbonio e arricchire il suolo? Ogni anno, in Europa, si smaltiscono 116 milioni di tonnellate di sostanze organiche, di cui 59 milioni sono scarti di cucina. Queste sostanze ricche d'acqua vengono spesso inviate all'inceneritore, riducendo così la produzione di energia, oppure alla discarica, diventando fonte di inquinamento. In questo modo, il ritorno delle sostanze organiche nel suolo e il ciclo naturale del carbonio vengono ostacolati. Tuttavia, queste sostanze organiche sono indispensabili per il suolo. Danno riparo in nutrizione ai microorganismi, fissano le sostanze nutritive, come l'azoto e il fosforo, e ne riducono la lisciviazione effettuata dalla pioggia. Aerano il suolo e ne favoriscono la permeabilità. Trattengono l'acqua e riscaldano il suolo grazie al loro colore scuro. Ma come facilitare il ritorno delle sostanze organiche nel suolo? Tramite il compostaggio, che ottimizza le condizioni di biodegradazione e permette alle sostanze organiche di reintegrare il ciclo naturale del carbonio. Ci sono due tipi di compostaggio. Il compostaggio industriale, realizzato su piattaforme controllate. Durante la prima fase, le sostanze si decompongono. Poi, l'attività dei microorganismi fa innalzare la temperatura che può raggiungere i 75 gradi. L'obiettivo è di neutralizzare i patogeni presenti nei rifiuti di origine animale. Questa fase si chiama igienizzazione. Quando la temperatura scende di nuovo al di sotto dei 30 gradi, inizia la fase di maturazione. Le sostanze vengono allora progressivamente digerite da altri organismi, lumbrichi, acari e altri insetti. Dopo un periodo tra i 3 e i 6 mesi, si ottiene un terriccio ricco di carbonio, il compost. La qualità del compost viene definita da norme ambientali nazionali e certificazioni. Tuttavia, dipende innanzitutto dalle sostanze destinate al compostaggio, che non devono essere contaminate da materiali non biodegradabili. Il compostaggio domestico, invece, non supera i 30 gradi e, pertanto, ha una fase di maturazione che può essere da 2 a 4 volte più lunga. Questa pratica ancestrale richiede competenze precise. Inoltre, il compost deve essere rivoltato regolarmente per mantenere l'attività dei microorganismi. Il compostaggio rigenera il suolo e favorisce la crescita di nuove piante. Grazie alla fotosintesi, le piante assorbiranno il carbonio dell'atmosfera, perpetuandone così il ciclo. Inoltre, utilizzare il compost permette di lottare contro il riscaldamento climatico. L'iniziativa 4x1000 ha dimostrato che un aumento annuale delle riserve di carbonio nel suolo pari allo 0,4% permetterebbe di compensare la CO2 immessa nell'atmosfera dall'attività umana. Gli scarti di cucina sono una risorsa indispensabile perché mantengono la qualità del suolo e alimentano il ciclo del carbonio. Allora valorizziamoli! Grazie a tutti!